In una conferenza stampa tenutasi al Palazzo Municipale di Capodorlando, l'Ufficio di Presidenza della Consulta dei Nebrodi ha fatto il bilancio dei primi sei mesi di attività svolte dall'organo intercomunale, nato con l'obiettivo di attivare iniziative per il rilancio turistico dei Nebrodi, ma anche a scopo culturale, sociale e sportivo. Noi sicuramente abbiamo intenzione di aprire la consulta a tutti i comuni che vogliono cooperare un progetto comune, sia per le politiche giovanili, sia per quanto riguarda il nostro cavallo di battaglia, che è appunto il turismo, la promozione dei nostri boschi, i nostri fiumi, i nostri laghi e anche ovviamente le zone costiere, quindi non vogliamo lasciare nessuno indietro. In questi ultimi mesi personalmente io e l'Ufficio di Presidenza abbiamo visitato vari comuni, delle aree interne che non conoscevamo, tanti comuni della nostra zona che veramente hanno delle bellezze che non hanno nulla da invidare a nessuno. Abbiamo iniziato a lavorare appunto per il prossimo progetto futuro, che è quello dello Stain Ebrodi, che presenteremo il prossimo 17 novembre, e riguarderà proprio una vera e propria programmazione turistica per il nostro territorio. Abbiamo fatto un accordo col comune di Cefalù, un'impresa che non è stata per niente facile, dove Cefalù si farà promotore del nostro territorio, perché è comunque una punta di diamante del turismo in Sicilia e quindi andrà a promuovere il nostro territorio e questo sicuramente ne avrà beneficio per tutti noi. La consulta dei Nebrodi continua a raccogliere adesioni. Dalla sua istituzione altri quattro comuni si sono aggiunti con i loro rappresentanti. Si tratta di Sant'Eodoro, Tortorici, Castel di Lucio e Capizzi. I primi sei mesi sono difficili per tutti, io credo che stiano svolgendo un buon lavoro. La consulta sta allargandosi un po' ad altri comuni e questa è la notizia che ci fa diciamo più ben sperare. A parte che veramente i ragazzi si stanno impegnando tantissimo in tutta una serie di attività che per quanto piccole danno un grande segnale di appartenenza a questo territorio e un grande senso di rispetto civico che oggi non fa male.